Buonasera. Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per l'espletamento impegnato, serio e imparziale del mandato esplorativo che gli avevo affidato. Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade, fra loro alternative. Dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti, sanitaria, sociale, economica, finanziaria, ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte a queste ipotesi ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che oggi devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un governo con attività ridotta al minimo come inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione, da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le regioni. Sul versante sociale, tra l'altro, a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di un governo senza pienezza di funzioni in piena campagna elettorale. Entro il mese di aprile va presentato alla Commissione europea il piano per l'utilizzo dei grandi fondi europei ed è fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza, perché quegli indispensabili finanziamenti vengano impegnati presto e prima si presenta il piano più tempo si ha per il confronto con la Commissione. Questa ha due mesi di tempo per discutere il piano con il nostro governo, con un mese ulteriore per il Consiglio europeo per approvarlo. Occorrerà quindi successivamente provvedere tempestivamente al loro utilizzo per non rischiare di perderli. Un governo all'attività ridotta non sarebbe in grado di farlo, per qualche aspetto neppure potrebbe, e non possiamo permetterci di mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro. Va ricordato che dal giorno in cui si sciogliono le Camere a quello delle elezioni sono necessarie almeno 60 giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di 20 per proclamare gli eletti e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei successivi giorni, nominare i propri organi di Presidenza. Occorre quindi formare il Governo e questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari Ministeri. Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un Governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi per la lotta alla pandemia, per utilizzare finanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte concrete e rapide ai loro problemi quotidiani. Credo che sia giusto aggiungere una ulteriore considerazione. Ci troviamo nel pieno della pandemia. Il contagio del virus è diffuso e allarmante e se ne temono nuove ondate nelle sue varianti. Va ricordato che le elezioni non consistono soltanto nel giorno in cui ci si reca a votare, ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre, la successiva campagna elettorale richiede inevitabilmente tanti incontri affollati, assemblee, comizi. Nel ritmo frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri Paesi, in cui si è votato obbligatoriamente perché erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti, si è verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo continuiamo ogni giorno, anche oggi, a registrare. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscono la fiducia a un Governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un Governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili che ho ricordato. Grazie e buon lavoro. Il Mondialismo, vuole veder morire Roma, per poter consentire la nascita, sia dei futuri Stati Uniti d'Europa, sia del Governo unico mondiale, dal momento che i primi saranno in qualche modo, le fondamenta che sosterranno il secondo. La nuova falsa Europa anticristiana, composta da un meticciato di popoli asiatici e africani, sarà il centro di questa dittatura mondiale. La storia d'Italia degli ultimi quaranta anni, e quella attuale, non è dunque null'altro che un copione già scritto, ed eseguito alla perfezione dalle corrotte classi dirigenti, che hanno servito fedalmente le elite transnazionali, tradendo il loro paese e accompagnandolo, decennio dopo decennio, ad una morta lenta e inesorabile. Per questo serve Draghi, che spinto dall'alta finanza internazionale, e dalle logge massoniche più potenti che esistano, ha le spalle molte più grosse e coperte di quelle dell'ex avvocato del popolo. Una volta instauratosi a Palazzo Chigi, Draghi, porterà a compimento la missione che gli è stata assegnata, che non è altro che l'attivazione dei prestiti del MES, una bomba nucleare, che raderebbe al suolo l'intera economia italiana. Draghi dunque sostanzialmente avrà il compito di portare a termine il lavoro iniziato a bordo del panfilo Britannia 28 anni prima. Dovrà portare l'Italia alla definitiva morte economica del paese. Per capire meglio gli effetti devastanti del MES, si possono citare le parole di Giampaolo Galli, economista non di certo di tendenze euroscettiche, che lo definì come un mezzo potentissimo per provocare una polverizzazione del risparmio italiano, se si considera che la condizione per ricevere gli aiuti è quella di ristrutturare il debito pubblico italiano. Questo vuol dire abbattere verticalmente il valore dei titoli del debito e dare un colpo devastante alle banche italiane che ne sono le maggiori detentrici. A quel punto, seguirebbe una vera e propria messa all'asta delle infrastrutture strategiche del paese, con la Cina comunista, altro perno del mondialismo, pronta a comprarsi i gioielli dell'Italia a prezzo di saldo. È uno scenario devastante tale da portare l'Italia nelle condizioni in cui è stata ridotta la Grecia otto anni fa. Questo vuole il mondialismo. Vuole sacrificare questa nazione sull'altare del nuovo ordine mondiale per poter così consentire la nascita dei futuri Stati Uniti d'Europa. Per l'Italia, almeno in questo momento, sembra essere tutto dannatamente più difficile. Il paese è attraversato da una profonda decadenza morale, e spirituale, e difficilmente potrà rinascere, se prima non si libererà dell'infezione morale, che è penetrata in ogni sua istituzione. Per ritrovare le radici e l'identità perduta, ci vorrà quindi tempo, ma bisognerà andare probabilmente fino in fondo a questo martirio, prima di poter ricominciare. Ci sarà ancora molto male davanti, ma questo passaggio, sembra purtroppo essere inevitabile per la rinascita. Le forze oscure potranno prevalere oggi, ma non per sempre. L'Italia, alla fine di questo calvario, si rialzerà in piedi. Aprite il cuore e la mente. Siate forti. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti.